Buongiorno e ben ritrovati ad Occhio ai Giornali, è l'edizione di questo mercoledì 6 novembre 2024 e come consuetudine la apriamo con il Santo del Giorno. Si celebra oggi San Leonardo Eremita, abate francese originario di Limoges, vissuto fra il V e il VI secolo. Il sole è sorto oggi alle 6.49, tramonto alle 16.52. E adesso le previsioni meteo. La grafica ci illustra una situazione relativamente stabile, alternanza di sole e cielo nuvoloso con banchi di foschia concentrati nella prima mattinata e nella serata. Anche le temperature saranno stazionari, un lieve aumento dei valori minimi. Adesso le notizie del giorno, cominciando con la celebrazione avvenuta ieri del 161esimo anniversario dell'istituzione della polizia locale fanese. Titola questa mattina il Corriere Adriatico, polizia locale più presente e incisiva. Ed ora istituiamo il vigile di quartiere, uno dei propositi annunciati dal sindaco Serfilippi, che ha diffuso i dati degli ultimi 5 mesi. Il personale, ha indicato ancora il sindaco, sarà dotato del distanziometro laser. Questa è un'altra delle iniziative annunciate per i prossimi mesi, per conferire agli agenti uno strumento in più per affronteggiare le situazioni che sono chiamate a gestire, in particolare per quello che riguarda il fronte della sicurezza. I numeri snocciolati da Serfilippi avevano uno scopo, tra gli altri, quello di documentare l'impegno che l'attuale amministrazione comunale sta approfondendo appunto sul versante della sicurezza. A questo riguardo lo stesso Serfilippi, come si legge all'interno dell'articolo, ha voluto rappresentare come emblematica la situazione del Vittoria Colonna, che l'amministrazione comunale attuale ritiene di aver preso di petto, agendo in primo luogo d'accordo con la proprietà, in limite società di gestione del risparmio, sotto il controllo del Ministero delle Finanze, blindatura degli accessi, videosorveglianza, queste le strade utilizzate per arginare il fenomeno delle incursioni abusive. Nel corso del suo intervento lo stesso Serfilippi si è concentrato poi sull'episodio più recente, lo scippo avvenuto al Pincio, è già stato individuato il responsabile grazie alla videosorveglianza e alla collaborazione con gli agenti del commissariato. Si tratta di una persona con problemi di salute mentale e che non rappresenta una minaccia per la sicurezza urbana, ha fatto notare lo stesso Serfilippi. Nella tabella indicati alcuni dati, in particolare l'aumento delle pattuglie serali portate a 181 più 34, 4570 i veicoli controllati e qui l'incremento è di 500 unità, 4920 le persone verificate più 223, 30 gli incidenti in cui il responsabile si era dato alla fuga, qui l'incremento è di 8 unità, 82 le querele acquisite più 25, segno più anche per gli incidenti rilevati, 344 sono aumentati di 68. Tabella che viene riprodotta anche dall'arresto del Carlino con qualche indicazione in più, in particolare per quello che riguarda gli interventi per fronteggiare situazioni di obbligatezza molesta sono stati 24, in più quanto ai daspo urbani ne sono stati elevati 11 e poi sul fronte delle infrazioni al codice della strada il numero più consistente riguarda i passaggi con semaforo rosso 1421, mentre sono stati 1037 gli accessi non autorizzati in ZDL che sono stati sanzionati. Da segnalare anche sul fronte delle indagini le 82 denunce per piccoli furti e danneggiamenti le 54 persone denunciate. Nel titolo si legge Ser Filippi questa città non la perdo d'occhio e le telecamere appunto incastrano lo scippatore del pincio. Attività intensificate in ogni campo rivendica Ser Filippi, mentre per quello che riguarda la videosorveglianza è stato fatto il punto, ce ne sono già 165 in città, altri impianti verranno installati negli accessi al centro storico e lungo corso Matteotti. Sul resto del Carlino anche la notizia, come anche sul Corriere Adriatico, della scomparsa dell'avvocato Giancarlo Rossi, una vita sul filo dell'ironia, titola il quotidiano bolognese che racconta la vita del professionista intrecciata con il suo impegno in politica nelle file della destra, dagli inizi politici nel movimento sociale alla passione per i classici e il tennis. La figlia Annalisa, che ne ha redditato la passione per la professione, spiega, vestiva con naturalezza la toga in tribunale e quella dei Cesari. Nello scritto che ha voluto consegnare alla stampa, segnalato come Rossi sia entrato nel Guinness dei primati per il numero di interpellanze presentate, ricordata appunto la sua passione per i classici e per il tennis, così come il ruolo che aveva rivestito all'epoca del servizio militare. Un uomo che girava in bici, sempre pedalando, raggiungeva il tribunale e in queste sue incursioni in tribunale, non rinunciava ad un'altra sua passione, quella per il canto. I funerali si svolgeranno questa mattina alle 10 nella chiesa di San Cristoforo. E riguardo ad un altro lutto, quello relativo alla scomparsa di Maria Grazia Battistoni, docente e ricercatrice, anche l'ISCOP si unisce al dolore per la perdita. L'Istituto di Storia contemporanea della provincia di Pesaro, Urbino, ricorda l'impegno da studiosa della stessa Battistoni, soprattutto per sottolineare figure centrali nella lotta partigiana, in particolare di donne. Il resto del carlino che torna poi su quanto è stato denunciato all'interno dell'area dell'ex hotel Riviera, trasformata in discarica abusiva, discarica all'ex hotel, si corre ai ripari. Lo fa la proprietà che ha inviato ieri mattina qualcuno a pulire, predisposto anche un container che faccia in qualche modo da collettore del materiale di scarto che era stato depositato all'interno dello scoperto dell'ex albergo. Parte di quel materiale era da ricondurre alla proprietà, altra parte invece è di origine ignota. Parla l'architetto Pierini che aveva elaborato il progetto di ristrutturazione dell'ex hotel, rilevando come il prossimo step che la proprietà si appresta a compiere è quello di un confronto con l'amministrazione comunale per capire se il progetto di riqualificazione, appunto imbastito nel 2018 e poi abbandonato, possa essere riproposto. Venendo invece al Corriere Adriatico, ci si occupa del progetto di fattibilità che è stato approvato in giunta riguardo alla realizzazione di spogliatoi per il Palatrave, la struttura supplementare che Virtus e Amministrazione Comunale, all'epoca del sindaco Seri, avevano realizzato accanto alla palestra Leonardi alla trave Vigilar Arena, questo è il nome dell'impianto in omaggio allo sponsor, c'è il progetto di fattibilità per gli spogliatoi. L'impianto infatti non è dotato di spogliatoi propri, si devono utilizzare quelli della palestra trave, intervento da 150 mila euro per quattro blocchi da realizzare in due stralci, entra così nel dettaglio il Corriere Adriatico, impianto che appunto aveva avuto una gestazione, si ricorda all'interno dell'articolo, particolarmente laboriosa, inizialmente un pallone spazzato via dal vento, poi anche le polemiche sull'impatto della struttura, infine l'edificazione di una struttura che è funzionale appunto in particolare allo svolgimento dell'attività di vivaio della Virtus che ha numeri molto importanti. Quanto invece agli eventi sempre sulla Corriere Adriatico, la Tre Giorni che si svilupperà dal 15 al 17 novembre dedicata a Pirandello, il teatro portato in mezzo al pubblico, tre spettacoli per celebrare Pirandello. Fa tappa a fano il progetto del Ministero che propone in luoghi aperti ciascuno a suo modo. Al centro dell'iniziativa la compagnia teatrale fanese ex novo, a cento anni dalla scrittura della commedia, scrive ancora nella Corriere Radiatico la performance incentrata sulle relazioni umane, performance che appunto verrà sviluppata in tre diverse giornate a partire da venerdì 15 e fino a domenica. Abbandonando i temi più prettamente fanesi dedichiamoci di nuovo all'economia, alla lettura che il resto del Carlino dà della classifica sullo stato di salute delle aziende marchigiane che è stata resa nota dalla fondazione Merloni, esercizio che viene fatto ogni anno. Il resto del Carlino si concentra oggi in particolare sulla dimensione delle aziende marchigiane, gli alti e bassi delle aziende, Scavolini meno 8% di fatturato, Boscarini utili boom 69 milioni. Queste due indicazioni fra le altre. La classifica della fondazione Merloni vede Profilglas scendere del 17% nelle vendite, perdere due posizioni come abbiamo rilevato già ieri dalla quarta alla sesta. Tra le società ad alta redditività ci sono la Tecnoplast, la Cariaggi di Cagli, la Schnell e la CMT. Nella tabella indicate le posizioni di alcune delle aziende che non avevamo indicato nella giornata di ieri. La Scavolini che scende al venticinquesimo posto, IMAC che si colloca al ventottesimo, trentesimo per Marinelli Cucine, trentunesimo per Riva Cold, trentaquattresimo per Benelli Armi. E a proposito di classifiche, anche se il termine non è proprio il più indicato, possiamo comunque fare riferimento anche alla guida Michelin, anche in questo caso la pubblicazione del nuovo volume con due conferme, Ciotti e Di Fabio, ancora stellati. Riconoscimento in questo senso a Nostrano di Pesaro e dalla Gioconda di Gabice Monte. Una citazione poi per la cucina della tradizione e la pasta fatta a mano dalla Peppa, esercizio appunto di Fano. Restiamo alle pagine pesaresi del resto del Carlino per fare il punto sul caso Affidopoli, Affidopoli, primo passo in Trimunale, Santini ed Esposto, insieme dai pubblici ministeri. Assegnati ieri al perito, assegnato ieri al perito, l'incarico di esaminare l'enorme mole di dati, di cellulari e pc. Avrà solo 20 giorni a disposizione. I due indagati, entrambi per concorso in corruzione, sono rimasti in silenzio davanti ai cronisti. Si tratta, come è noto, di Massimiliano Santini, l'uomo qui ritratto nella foto al quale il sindaco Ricci aveva affidato un incarico operativo sul fronte degli eventi e di Stefano Esposto, che invece figura come presidente di Opera Maestra e Stella Polare le due realtà alle quali erano state affidate una serie di operazioni che sono al centro dell'indagine. Le determine che hanno inguagliato dirigente funzionario, così il resto del Carlino titola, ripercorrendo appunto quegli affidamenti sui quali si sono concentrate le attenzioni degli inquirenti, mentre per quello che riguarda la figura di Franco Arceci, che aveva continuato ad occupare un ufficio in comune nonostante il contratto di consulenza fosse scaduto, è stato Maurizio Terenzi, legale dell'ex capo di gabinetto, a spiegare perché stesse in comune senza incarichi. Lo ha fatto in buona fede a chiederlo all'attuale sindaco Biancani e intanto sempre un altro avvocato che tutela gli interessi di Franco Arceci, vale a dire Alberto Bordoni, sottolinea come le attestazioni di stima nei confronti dello stesso Arceci valgano come e più di una sentenza. Sempre dal resto del Carlino e il punto sui cantieri finanziati con fondi PNRR a Pesaro, i soldi non bastano ma non lasceremo incompiute il sindaco Biancani ad affermarlo alla ricerca di altri fondi, pure dai privati, però gli edifici saranno utilizzabili anche se resteranno lavori da fare. La ricognizione compiuta da Biancani e dall'assessore Puzzi ha riguardato in particolare i musei civici e ancora Palazzo Ricci, Palazzo Almerici, la biblioteca oliveriana, il San Benedetto e anche il cortile dello stesso Palazzo Ricci. E sul fronte dei lavori pubblici e invece il Corriere Adriatico ad occuparsi nel dettaglio della situazione dell'auditorium Scavolini. Lavori completati ma non del tutto nel senso che non è stato posato il perché necessario allo svolgimento delle attività sportive e resta ancora da precisare quali eventi sportivi possa accogliere quell'impianto. Auditorium Scavolini, nessuno sarà sfruttato, lo sport e troverà a casa. E quanto affermato a conclusione dei lavori di due ore della commissione incaricata di verificare rispetto della polvifunzionalità Lorenzo Montesi che passa adesso la palla ad Aspes che assumerà la gestione della struttura. Il consigliere comunale dei Cinque Stelle lui gli fa notare come bisognerà tenere conto delle esigenze del ROF quanto agli interventi da compiere appunto per consentire le attività sportive. Siamo ancora in una fase interlocutoria, bisognerà appunto in qualche modo stanziare un ulteriore budget e anche individuare le modalità esatte per l'intervento. È una spallata al turismo sportivo a rischio ai programmi 2025, denunciano intanto Pino Manieri ed altri operatori del settore riguardo agli eventi sportivi, che vengono organizzati a Pesaro di respiro nazionale. Gli operatori chiedono sull'ex hangar si decida. C'è spazio per ospitare anche altre discipline. Si chiede invece Marco Cadedu, altro operatore, riguardo all'ipotesi che soltanto basket e volley possano entrare all'auditorium. Sempre sul fronte delle opere pubbliche, anche il punto sulla palestra dell'Istituto Comprensivo Olivieri sarà pronta entro marzo. L'obiettivo dell'amministrazione comunale è recuperare l'anno di ritardo. Tornando invece al resto del Carlino, sempre dalle pagine pesaresi, la protesta all'Istituto Alberghiero, dove ci sono aule chiuse per mancanza di bidelli. Allora gli studenti si fanno avanti, fatele gestire a noi. Scioperano i ragazzi delle quinte, il nodo è la mancanza di spazi che costringe a spostare le classi tra una lezione e l'altra. C'è un'intera ala inutilizzata per carenza di persone alleate, allora gli alunni fanno notare come possano badare da soli a loro stessi da parte sua. Il dirigente scolastico Franca ritiene che quell'ala possa essere di nuovo fruibile in tempi brevi di seguito all'utilizzo che è stato avanzato da parte appunto di un altro istituto. l'ITS Turismo. Resto del Carlino che dà anche spazio alla replica dell'assessore Frenquellucci agli ambulanti che avevano parlato di promesse elettorali non mantenute, accuse assurde al Comune secondo la Frenquellucci che replica in particolare a Valerio Tamburini che a nome degli ambulanti aveva protestato. Frenquellucci che ripercorrere all'interno dell'articolo tutte le iniziative che sono state assunte, che sono ancora in itinera da parte dell'amministrazione comunale per alleviare i disagi degli ambulanti e rendere più funzionale il nuovo spazio assegnato. Ancora sul quotidiano bolognese anche la notizia della scomparsa di Giorgio Campana dal team a due ruote a direttore di gara. Era un'autorità nelle competizioni. Aveva 88 anni ed è stato uno dei più apprezzati in Europa nel settore per 30 anni a Misano, poi a Dimola. Stimato e scrupoloso sulla sicurezza, i piloti lo applaudirono. Quando nel 1981 alzò bandiera bianca per pioggia il suo impegno, ricordano in particolare i familiari, contribuì a rendere l'autodromo di Imola una delle strutture più rispettate. Ricordo dei figli, incentrato anche sulla sua smodata passione per quel ruolo. Era anche uno a cui tutti volevano bene, viene ricordato dai familiari di Campana. Il Corriere Adriatico all'interno delle pagine pesaresi si occupa invece anche delle iniziative per il prossimo Natale a Pesaro e in particolare della ricollocazione della pista di ghiaccio. Tra l'altro quest'anno in sintetico la pista si avvicina al centro storico. Piazzale Matteotti sale in classifica. Sembra essere quello il sito favorito appunto per la ricollocazione dell'impianto. Ma c'è anche in ballo l'ipotesi legata a Via Cavour allo studio, il piano sicurezza per i grandi eventi delle feste. La cronaca giudiziaria invece ci porta alla condanna che è stata ufficializzata ieri nei confronti di un uomo che aveva strappato il cellulare alla ex e l'aveva colpita con una testata. Si tratta di un venticinquenne senegalese, scusate, di un 33enne senegalese, viene precisato all'interno dell'articolo, condannato a sei anni e otto mesi dopo questa discussione degenerata con la ex. Quanto invece alle pagine pesaresi, sempre del Corriere Adriatico e al tema degli edifici a Pesaro, anche privati. Il punto è stato fatto dal Collegio Provinciale dei Geometri che ha chiamato questa mattina a relazionare una serie di esperti riguardo al tema in particolare della fragilità negli spazi, riguardo in particolare alla disabilità, al rapporto fra disabilità e abitazioni tra i relatori, amministratori pubblici, docenti universitari e rappresentanti di AFAS. Sul Corriere Adriatico ed occupandoci adesso invece dei temi sviluppati nelle altre pagine, su quella dedicata a Senigaglia, l'appello che i genitori di Leonardo, il ragazzo suicida a 15 anni, vittima dei bulli, hanno rivolto al ministro dell'istruzione Valditara. I genitori di Leo vanno da Valditara, legge antibullismo in suo nome. Il papà, la mamma e l'avvocata del quindicenne suicida oggi dal ministro, se la proposta non verrà accolta, verrà avviata una raccolta di firme. Il legale consegnerà anche al ministro un dossier sul clima che era presente all'interno dell'istituto alberghiero in cui è maturata questa drammatica vicenda sempre dalla Corriere Adriatico e pagine del territorio. L'evento Chieta-Vuglia si prepara nuovamente ad ospitare la 100 chilometri dei campioni, l'annuncio di Valentino Rossi sui social riguardo appunto all'iniziativa che si articolerà nel suo Motor Ranch dal 10 l'11 gennaio. Aspettiamo tanti appassionati, così si pronuncia il sindaco di Tavuglia. Mentre per quello che riguarda invece la situazione alimentata dal maltempo dei giorni scorsi, c'è allarme in particolare a Fossombrone per il corso del Metauro. Nell'alveo i tronchi abbattuti, Metauro a rischio, alberi in bilico sulla chiusa del fiume, altri incastrati sotto il ponte della Concordia. E sempre da Fossombrone anche la notizia che sono stati ultimati i lavori per la palestra all'aperto nel parco giochi di via Saracesi, realizzata con 29.500 euro. Sarà a beneficio di associazioni e cittadini. Quanto invece alla pagina dedicata ad Urbino. In primo piano la cronaca con il grave infortunio avvenuto alla Pantarei, azienda specializzata nella produzione di semi lavorati. Un giovane di Petriano rimasto incastrato in un macchinario a soccorso in codice rosso. Ricostruita anche la dinamica dell'episodio, sembra che l'operaio sia intervenuto per rimettere in azione un macchinario che aveva messo di funzionare e sia rimasto appunto incastrato. Venendo invece al resto del Carlino e agli argomenti trattati nelle pagine riservate all'entroterra, ci si occupa per quello che riguarda Urbino, in particolare degli interventi su Palazzo De Rossi. Il sindaco Gambini fa il punto sulla sistemazione dell'edificio che potrà offrire opportunità abitative, luoghi aggregativi a studenti e simili. La data del cronoprogramma è quella del 2025. Nella porzione di proprietà pubblica nasceranno locali di housing sociale. A Ferminiano è invece la rabbia del sindaco Feduzzi riguardo agli atti di vandalismo ai danni dell'isola ecologica. La decisione è quella di eliminarla. Non è la prima volta che accade. Che gusto ci trovano? L'interrogativo senza risposta che lo stesso Feduzzi rivolge appunto agli autori del gesto e anche alla comunità più in generale. Sempre in tema di lavori, quelli in corso alla abbazia di San Gervasio a Mondolfo. Fine lavori prevista per la primavera, dice il sindaco Barbieri, all'avvio del cantiere da 100 mila euro che dovrà risolvere il nodo delle infiltrazioni. Si tratta di un sito paleocristiano, ricorda Barbieri, che sottolinea il suo grande valore e l'intenzione di renderlo di nuovo fruibile al 100%. Da più di un anno a causa dei problemi del luogo di culto, la cripta è chiusa. Alle visite viene fatto notare. Siamo così al termine di questo appuntamento con Occhio ai giornali. Come sempre grazie per essere stati con noi e buon proseguimento di giornata.